Siamo stanchi di rimosinare la casa e un nostro diritto. Fanno sentire la loro voce gli assegnatari degli alloggi che sono stati realizzati in località Satriano ad Angri. La gradatoria definitiva è stata stilata ormai da diversi mesi ma sono ancora in corso le verifiche. I cittadini però sono stanchi di aspettare. E' una vergogna, proprio vergogna perché la nostra dignità dove è finita? Io abito in un garage, ho i pulsi e i vaschi che sono in casa e i miei bambini non ce la fanno più. Rischio di prendere malattie, questo è proprio uno schifo. Lei è nella gradatoria definitiva? Sì, sono al primo posto. Però state aspettando cosa? Le verifiche? Sì, le verifiche, hanno detto verifiche, verifiche, ma quanto fanno queste verifiche? Sono passaggiati 5 anni. Andiamo al comune, andiamo al comune oggi e domani, oggi e domani e non lo passiamo più. Vi sentite quasi di elemosinare quello che per voi è un diritto, lo striscione parla chiaro. Oggi siete qui per chiedere cosa al comune? Noi non stiamo contro nessuno, stiamo chiedendo solo i nostri diritti, la casa, perché dove stiamo non possiamo stare più. Sono 4 anni, è passata anche quest'altro anno e sono 5. E allora che dobbiamo aspettare? Non è che chiediamo chissà che. Lei è nella gradatoria, ha diritto a questa casa? Sì, come io, come le mie amiche. Noi non stiamo dicendo di darci chissà che. La casa che ci aspetta, che noi abbiamo fatto una domanda, c'è una gradatoria. Chi dobbiamo aspettare ancora? Le vostre difficoltà quotidiane quali sono? Io c'ho un po' di tutto in casa, quindi sto a primo posto e quindi è uscito pure il giornale, c'è lo scombero da 4-5 anni che non si fa niente. E' uno scombero ma vive in quella casa? Sì, oggi, domani, oggi, domani e ci stanno prendendo proprio per i fornelli. Al loro fianco, in questa battaglia, anche il consigliere comunale di minoranza Alberto Milo, che annuncia che invierà una missiva al prefetto di Salerno e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' giusto ricordare che questo bando è stato pubblicato nel 2014. Sono 5 anni che questa gente aspetta che gli venga consegnata questa benedetta casa. Queste famiglie vivono un dramma sociale e quando parliamo di dramma sociale vivono dei disagi enormi. Qua c'è gente che oltre a vivere in abitazioni completamente piene di muffe, ma guardate, c'è un giornale che risale, un giornale del mattino risale al 2014, fosse setti che in camera scatto allo sgombro. Questa famiglia sta ancora in questa abitazione, è una famiglia avente diritto, ma è normale che c'è una soluzione a portata di mano. Qua gli alloggi sono completamente vuoti e questa gente deve vivere in queste condizioni. Lei ha chiesto all'amministrazione delucidazioni anche scritte in merito a questa vicenda. Cosa le rispondono? Guardi, più di una sollecitazione pubblica come l'abbiamo fatta 20 giorni fa, credo che non c'è più niente oltre. Noi dicemmo 20 giorni fa che avremmo fatto una sorta di protesta più forte e oggi siamo qui proprio per questo. Protesta pacifica, insomma, rimedicare un diritto. Noi non facciamo proteste non pacifiche, noi non siamo dei guerrafondai, noi siamo qui per rivendicare dei diritti certi e acquisiti. Ok? Io avviso attraverso le vostre telecamere che lunedì partiranno due lettere. Una sarà indirizzata al Presidente della Repubblica e l'altra al Prefetto, sottoscritto da tutti quanti. Perché le altre istituzioni di questo governo devono sapere che in un comune italiano si verificano queste situazioni, dove c'è gente che soffre un disagio abitativo enorme, dove c'è una soluzione a portata di mano e le istituzioni locali rispondono con la massima indifferenza.